Musica Musica Prendiamo tutti i conti Poi, tutta la parte Musica 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 28 dicembre 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 Ci siamo tutti qua 1, 2, 3, prova Beh, che penso A cosa dolce o dolce? Beh, ecco La cosa a te Ma non è Ma non è Ma non è Quello ce lo vediamo Poi Tu fai un passiere, eh? Eh, facciambre No, sai, ti piace questa rommola? Te piace? Eh, bravo Ma quelli mi chiede questa patata Eh, chi sei già stati bugionati? Che pari la mia? E foi ma nella mia Ma non è Ma non è Get dozione No, mi outside Ma non è 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 ehi ehi è bravissima è un stupendo prendiamo per un strutturare prego prego accomodatevi vieni si 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 buonasera buonasera ciao buonasera 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 guarda mamma eh stavo in un momento in noi la mia sposa non è venuta avanti avanti la mia sposa non è venuta zio zio non vado non vado non la mia non la mia non la mia è 19 non la mia ciao 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 è l'ambiente di girare l'agrappolante a tutti sempre 14! 14! 14! Ma il 15 è fatto qualcosa Ambele state a parte Allora, distanze No No 10 O un algoritmo su questo stagio 10 10 La seconda festa è di Natale. 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 La seconda festa è di Natale.